Il palcoscenico sarà un trenino e lo spettacolo sarà itinerante. È The Show, il nuovo format in stile americano che animerà le serate di Riccione. Un viaggio nello spazio e nel tempo che racconterà la perla verde attraverso gli anni, lungo un itinerario che toccherà tutta la città nelle sere d'estate. Sei tappe in diverse location che racconteranno sei diversi periodi per rivivere la storia di Riccione dagli anni 50 ad oggi. Ad esibirsi in un vero e proprio musical viaggiante saranno sei artisti professionisti e giovani talenti della Musical Academy di Riccione, diretti da Elena Ronchetti che insieme a Mattia Guidi ha ideato il progetto. Su tre vagoni con luci, musiche e allestimenti a tema troveranno posti i protagonisti di The Show e i passeggeri. Domenica in programma un'anteprima dello spettacolo con partenza al Porto Canale alle 21.45. Il programma ufficiale poi partirà a luglio con nove serate tutti i giovedì con tre partenze alle 19, alle 21 e alle 22.30. Grazie.